L'importanza di educare al rispetto e alla cura. Il Papa ne ha parlato giovedì 23 novembre ricevendo in udienza le delegazioni di Federazione Italiana Settimanali Cattolici, Unione Stampa Periodica Italiana, Associazioni Corallo e Aiert. Francesco ha invitato gli organi di informazione cattolica a non abbandonare il sentiero della formazione. Sarà questo, ha detto, a portarvi lontano. E vediamo dalle tristissime cronache di questi giorni, dalle terribili notizie di violenza contro le donne, quanto sia urgente educare al rispetto e alla cura, formare uomini capaci di relazioni sane, comunicare e formare l'uomo, comunicare e formare la società. Il Papa è sortato a guardare alle persone con particolare attenzione allo spirito di servizio, veicolando una visione umana e cristiana capace di non deformare le menti e i cuori della gente. Per questo è fondamentale promuovere strumenti che proteggano tutti, soprattutto le fasce più deboli, i minori, gli anziani, le persone con disabilità. E li proteggano dall'invadenza del digitale e dalle seduzioni di una comunicazione provocatoria e polemica. Prudenza e semplicità, aggiunto, rappresentano gli ingredienti educativi basilari nella complessità di oggi, specialmente sul fronte del web, dove non bisogna cedere alla tentazione di seminare l'odio. Affido il vostro impegno a San Francesco de Sarias e a Beato Carlo Acutti, perché guidino i vostri passi sui sentieri della formazione, della tutela e della testimonianza.